gocce, Osimene che adesso ha un altro pallone in aria, Osimene! leggera qui, approfitta di un Bayern 2 per 15, under 16, under 17 e under 19 Osimene sul recupero di Unas, limite, Osimene! Stricias che appoggia per qui Sanz, Unas gli ruba il pallone, lo tocca rapidamente ad esterno Sanz, Unas gli ruba il pallone, lo tocca rapidamente ad esterno